Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video, attraverso il quale vi informeremo sulle zone interessate da forti piogge, sera e notte di oggi, domenica 30 aprile 2023, nonché le zone interessate da un po' di neve. Tutti perché il beneficio si diffonda, se oggi, domenica, sono previste piogge molto abbondanti e che si intensificheranno maggiormente domani, lunedì 1 maggio, in tutte le zone a ridosso del Tirreno, soprattutto dall'estremo nord e sud, e anche nelle regioni settentrionali, con qualche temporale sull'isola di Sicilia e Sardegna, e la neve sarà presente e intensa anche all'estremo nord, in particolare nelle zone di confine con Francia e Svizzera, la cui profondità supera i 1500 metri, e lo spessore della neve potrà superare i 40 centimetri, e quindi le zone interessate dalle forti piogge di questa domenica sera sono Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle Aosta, Lombardia, Nord, Trento, Alto, Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Palisicana, Calabria. E si avvisa inoltre che la pioggia e il temporale si intensificheranno maggiormente, lunedì mattina e si sposteranno verso tutte le regioni d'Italia, nessuna esclusa con pericolo di piogge torrenziali e alluvioni, e quindi è fortemente richiesta prudenza e ogni altra novità importante ve la forniremo in seguito.